I ministri dell'Unione Europea valuteranno la possibilità di imporre sanzioni contro i coloni israeliani che si sono macchiati di violenze in Cisgiordania. Contro di loro, secondo una proposta avanzata nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri dell'Unione, dai governi di Belgio e Irlanda, appoggiati dalla Francia, scatterebbe il divieto di rilascio di visti e controlli più severi sui prodotti provenienti dagli insediamenti. I massacri commessi dalle milizie di Hamas lo scorso 7 ottobre hanno fatto aumentare drasticamente il numero degli attacchi nell'esclave palestinese. Secondo alcune ONG sarebbero almeno 250 i bambini palestinesi uccisi dall'inizio delle ostilità in Cisgiordania. I paesi che hanno preso l'iniziativa si sono detti pronti ad agire anche in via unilaterale. La proposta è stata criticata da diversi ministri perché mette sullo stesso piano i miliziani di Hamas riconosciuti come terroristi a livello europeo e i coloni israeliani. For instance, the US seems rather beholden to Israel. But when it comes to the settlers, actually, even the US, even the State Department has gone as far as to say, OK, we need to sanction settlers that are perpetrating violent crimes today. So if the US and the State Department can do it, it would really be a disappointment, a lack of capacity of action if Europeans also can't unite. Prima di passare all'esame di questa proposta inedita, continua il lavoro dei ministri su un nuovo regime di sanzioni che prende di mira altri membri di alto livello di Hamas. Grazie.